Benvenuti alla rassegna stampa di oggi venerdì 25 ottobre, proprio questa mattina partiranno i primi interrogatori ai necrofori arrestati per lo scandalo dei pacemaker, stiamo parlando dell'ospedale di Pesaro. Invece spostandoci a Marotta sono state sequestrate grosse quantità di merce contraffatte. Vediamo però prima i Santi del Giorno. Oggi è San Crispino e Crispignano, martiri. Il sole è sorto alle 7.35, tramonterà alle 18.10. E vediamo anche le previsioni per la giornata di oggi. Oggi il cielo sarà sereno, poco nuvoloso, con banchi di nubi basse durante le ore più fredde della giornata, specie lungo la costa. Non è prevista pioggia in tutta la regione e le temperature saranno senza variazioni di rilievo. Domani è sabato 26 ottobre, cielo sereno, poco nuvoloso, anche in questo caso non ci sarà pioggia e le temperature in lieve aumento. Anche domenica stessa cosa, cielo sereno, poco nuvoloso, senza pioggia, temperature stazionarie. Oggi a Urbino si rimane ancora sui 20 gradi, così come Pesaro-Fano, Ancona invece 21. Per domani Urbino ancora 20 gradi, Pesaro-Fano 19, Ancona 20 gradi. Allora partiamo dalla prima pagina del Corriere Adriatico. Chiaramente oggi si continua a parlare di questo scandalo grossissimo che c'è stato all'interno dell'ospedale di Pesaro riguardante appunto il fatto che alcune salme venivano trafugate, quindi venivano depredate e all'interno veniva rubato proprio il pacemaker. Solo vittime del raggiro, truffa dei funerali fatti secondo la dirigenza di Marche Nord. Chiaramente oggi Marche Nord vuole precisare alcune cose e lo fa appunto nei quotidiani. Ecco qui scoperta la fabbrica dei falsi abiti griffati, siamo a Marotta dove sono stati denunciati otto stranieri che confezionavano capi e accessori all'interno di sei case e due garage. Fanno l'analisi del tecnico del Fano Omiccioli, siamo partiti tardi, sapevo che era dura. Questa è appunto la sua affermazione. Andiamo subito alla pagina di Fano del Corriere Adriatico di oggi. Si parla di politica, PD regionale, rapporti difficili, referendum, dragaggio e biogas. Marchegiani ammette le contraddizioni interne al partito. E vedete qui nell'immagine appunto il segretario comunale del PD, Stefano Marchegiani, che è candidato alle primarie per il sindaco. Vediamo anche le notizie flash, Fano Film Festival premia a Cinescuola e poi prodotti tipici, il Buongiorno oggi è al Pincio, da oggi per tutto il fine settimana la zona del Pincio ospita Buongiorno Italia, un'iniziativa promossa dall'omonima associazione. Fondazione 10 computer per il Torelli, grazie alla cassa di risparmio di Fano e poi Sant'Agostino, Teatro Romano, il documentario sabato alle 17 nella sala capitolare di Sant'Agostino. Edilizia e cantieristica prima di tutto, qui vedete Maurizio Tommassini del forum del terzo settore, che col presidente appunto lui Tommassini accoglie l'invito di Ser Filippi a convocare gli stati generali. Il patrimonio segreto del comune di Fano, Omiccioli elenca centinaia di ettari di terreni, decine di immobili e palazzi, ma si vendono le quote ami. L'amministrazione dovrebbe rendere note le sue proprietà, ma a Guzzi si guarda bene dal farlo, a parlare Adar Omiccioli. Sinergie per il matrimonio, un gruppo di imprenditori locali uniti per offrire il pacchetto cerimonia. Un giorno, proprio varie iniziative dedicate al giorno del sì, da domani alle 15 e da domenica alle 10. Quindi questo è quello che avviene, Natural House Wedding Day. Conferenza dell'ex sindaco di Roma, Le Manno presenta il nuovo centrodestra. Sarà a Fano per presentare il nuovo centrodestra in visita martedì 29 ottobre nella città della Fortuna, chiaramente a partire dalle 18.30. Terrà un incontro pubblico al Pino Bar, dal titolo Una nuova alleanza nazionale popolare nelle Marche per salvare l'Italia. Ecco qui quello che è successo a Marotta, false griff, otto denunce, un bazar di borse, scarpe, vestiti stipate in sei appartamenti. La fabbrica delle false griff, scovata in via Lago Trasimeno, dove otto senegalesi confezionavano vestiti, scarpe e borse contraffatte in sei appartamenti. Poi c'erano due garage che erano adibiti a magazzino. I militari dentro gli edifici del civico numero 9 hanno sequestrato 100 giubbotti, 200 paia di scarpe, 300 borse. Insomma, il valore della merce sequestrata e che forse sarà destinata alla carita si ammonta a 750 mila euro. Vediamo invece le pagine di Pesaro sempre del Corriere Adriatico, dove chiaramente parla Marche Nord. Era all'oscuro dei fatti, questo è il titolo. Ricci e i dirigenti ribadiscono la collaborazione con la magistratura, danneggiati dai dipendenti. Per l'operazione che abbiamo detto si chiama Lazarus, il direttore generale Aldo Ricci arriva un po' in ritardo, rientra ad Ancona, ma ecco qui quello che dice allo stato attuale nell'ordinanza di arresto dei quattro necrofori non ci sono accuse per esercizio abusivo della professione medica o vilipendio di cadavere, dice Ricci. E qui nell'articolo potete leggere appunto tutto quello che ha detto. In camera mortuaria controlli serrati eseguiti ogni giorno. A Pesaro Halloween sotto le stelle, con i negozi aperti in strada, un giovedì da paura nel centro storico pesarese. Sempre a Pesaro, pensionati e sindacati, le ragioni della mobilitazione di novembre. Sul tavolo anche temi locali relativi alla tassazione comunale. Già notti critico con la provincia, un milione di euro investiti per i co-co-co. Andiamo a vedere la prima pagina del messaggero di oggi, anche qui chiaramente a grandi lettere, salme violate, il titolo Prime Verità. Oggi ci sarà l'interrogatorio dei necrofori. Sui pacemaker solo intercettazioni, per ora niente accuse. I vertici dell'azienda Marche Nord dicono nessuna omissione, ma collaborazione e trasparenza. A San Decenzio botta e risposta fra il PDL e l'assessore. Il mercato nel ponte di Ogni Santi non piace a Di Domenico del PDL. Il mercato al San Decenzio è la domenica 3 novembre, nel lungo ponte che comprende Ogni Santi la ricorrenza dei defunti. E l'assessore Belloni replica. A Sant'Angelo Invado farà il pieno di VIP, omaggi anche a Lucia Annibali, alla CRI, il tartufo d'oro ai nomadi e Pippo Baudo. Appunto a Sant'Angelo Invado. E intanto il meteorologo dice che le temperature tornano addirittura a salire per i prossimi giorni. Subito la pagina di Fano del messaggero di oggi, fondi fermi, la CGL, famiglie senza aiuti. Il sindacato protesta per gli stanziamenti anticrisi non erogati. Una manifestazione in centro da oggi arti e mestieri per quello che abbiamo detto buongiorno Italia. Quindi qui vedete le iniziative. Intanto Marotta, scoperta la fabbrica delle griff false. Poi invece torna a parlare Falcioni. In merito alle buche, buche a Porta Giulia, Falcioni interverrò. Marchigiani attacca Sumarotta Unificata, il segretario PD contro la regione, Danna e Carloni. Ecco qui riguardo proprio al referendum. Torniamo alle pagine di Pesaro. Pacemaker rubati alle salme, oggi necrofori davanti al PM e vedremo che cosa avranno da dire. Intanto il nuovo ospedale spunta l'ipotesi di cambiare area. L'alleanza PD Mosconi rimette in discussione la scelta di Fosso Seiore. Ricci, nessuna omissione. Quindi la spiegazione del direttore generale di Marche Nord, Aldo Ricci. Case popolari. Il progetto pesarese potrebbe essere, d'esempio per tanti altri comuni, può essere pilota nel territorio. CNA costruttori favorevoli all'acquisto di alloggi invenduti. Mille abitazioni invendute in provincia. L'operazione degli alloggi popolari portata avanti da Pesaro va estesa a tutti i comuni del territorio. Siamo pronti a collaborare. Fa discutere il mercato nel ponte di Ogni Santi. Il 3 novembre a San Decenzio davanti al cimitero. Ecco, il mercato davanti al cimitero nel ponte dei Santi e dei defunti. Il PDL attacca. Servono i parcheggi per chi vorrà commemorare i propri cari. Le bancarelle vanno spostate in centro. Ma l'assessore Belloni non ci sta. Richiesta che arriva dagli ambulanti. Già successo in passato senza alcun problema. Quindi questo dibattito tra Di Domenico e Belloni sul fatto di fare il mercato oppure no a Pesaro. Intanto andiamo a vedere quello che sta succedendo allo studente di Urbino che ha manifestato a Roma. Campagnolo. Raffaele Campagnolo, lo vedete che qui non molla e non c'è e non centro con gli scontri. Lo studente Urbinate scarcerato dal GIP manifesterò ancora. Andiamo adesso alla prima pagina del resto del Carlino di oggi. L'ospedale non è la casa degli orrori. L'azienda dice non risulta un traffico di pacemaker. Oggi ci saranno gli interrogatori ai necrofori. Fotonotizia dedicata a Don Gaudiano. Parla il fratello. Aveva una fede profonda. Domani celebrazione con Angelo Bagnasco. Quel prete ci manca. Opere pubbliche. Priorità. Marciapiedi. Prima degli uffici comunali. Parla l'assessore Briglia. Eventi e festival. Pesaro. Distretto Culturale. 300 mila euro dalla regione. Studenti liberati a Urbino, corteo di solidarietà e poi questo maxi sequestro di roba contraffatta a Marotta. Ecco qui l'inchiesta Lazarus ancora mistero sui pacemaker dello scandalo. Oggi ci saranno gli interrogatori. L'intercettazione del necroforo che protesta. Anche questo mi tocca fare. 100 euro a vestizione quanto chiedevano i necrofori arrestati per un intervento fuori dall'obitorio ma non rilasciavano le bollette dell'azienda. Era nero. 1400 euro per i vestiti e quanto si va andati a avere incassato uno degli arrestati in un'intercettazione per vendere un guardaroba alla moglie di un morto. Alla lista dei cinque che sono già i domiciliari e due con obbligo di firma si aggiungono altri tre nomi. Quindi le indagini stanno andando avanti e come sapete ieri abbiamo letto anche i nomi di coloro che sono stati fermati. Pagina di Fano. Il comune non ci ha ancora detto a quanto ammonta il suo patrimonio. Parla il movimento a 5 stelle. Adaro Miccioli vuole vederci chiaro sui conti. Il comune faccia fruttare le proprietà invece di svendere il patrimonio di famiglia. Qui nell'intervista potete leggere appunto il pensiero di Omiccioli. Cianfrusaglia si salva in extremis. Ieri abbiamo parlato proprio della difficoltà del teatro dialettale. Ebbene oggi un sospiro di sollievo per le compagnie dialettali. L'affitto del Politeama non varierà. Quindi questo potrà permettere proprio di continuare alle compagnie di esibirsi. Solidarietà consiglieri del PD preoccupati che fine ha fatto il fondo anticrisi e poi la sfilata come ti somiglio. Abbaiate di consenso ai cani più simpatici. La manifestazione giunta alla quarta edizione è stata organizzata da Malampo e dalla Banda del Lupo con il sostegno del comune. Grande partecipazione anche in questo anno. La cooperazione futuro presentato il bilancio sociale 2012 della BCC di Fano. E qui potete leggerlo appunto. Intanto anche qui si ricorda che martedì 29.18.30 Pino Barci sarà Gianni Alemanno. E la Carifano dona 10. Computer al liceo scientifico Torelli. Chiudiamo con quello che è successo a Marotta. Intanto per il marchio Siviglia si profila un accordo con l'azienda romagnola Gilmar. Quindi sono vicinissimi alla firma dell'accordo anche perché i tempi tecnici sono ormai molto stretti. Gilmar assieme a Siviglia. Mentre rimanendo a Marotta ecco quello che dice appunto il resto del Carlino. Borse, scarpe, maglie contraffatte. Maxi sequestro dell'arma a Ponte Sasso. Nei guai 8 senegalesi regolari ex dipendenti dei cantieri navali. Per il momento è tutto e quindi chiudiamo qui oggi la nostra rassegna stampa. Noi ci ritroviamo lunedì. Domani comunque alle 7.45 la rassegna stampa con Lino Balestra. Io vi auguro un buon proseguimento di giornata e un buon weekend.